andiamo signori uffa grazie ehi vai Ari vai ehi 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 andiamo ehi li stai lunga linea in centrale ufff Achen va da komme guarda l'ultimo, non ce l'ho L'ultimo non ce l'ho Brullino midina Gое'm isa a correre da te attaccate una patina va bene ma esiste pure quello angolo una scarica una scarica fanno passare buona forza 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 torna torna coraggio e tira ragazze abbiamo provato uno scarico un altro tira ma io non è un pozzo calcio a mano ma io non è un pozzo calcio a mano no solo quando è in gioco con la mano torna veloce torna veloce torna veloce calma 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 guarda sull'esterno non ci credo non ci credo forza ragazzi forza calma 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 no no ragazzi forza Tonia vai forza siete più veloci no Tonia dai recupera Tonia con calma a fare qui vittatela vittatela guardala vittatela vittatela vieni vai vieni Tonia vieni forza rendete fiato Tonia buono 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 forza che siete colosci forza 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 no oh la terminate forza forza Mario guardami ok signore cambio a forza dai una gianta al calcio forza cambio uno dovete avere fatto un buro e togli da due no oh no oh libera ma calma 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 mario guardati da te donia girati ragazze ha ragione dai guarda Mena 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 vai loce Mena guardiamo sta difesa prendi recupera dietro facci donia facci pure tu vieni vieni Grazie a tutti. No, vai! Oh, guardiamo pure la difesa! Grazie. No, vai Marzia! No, vai Marzia! No, vai Marzia! 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 dai dai forza guarda l'uscita bianca in linea con me 89 in linea con me ok gioca dai spettaccia a destra vai meri vai meri vai e dai forza si si Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.